io ragionier total non sono diverso da voi né voi siete diversi da me e allora signori scusate ragazzi vorrei fare un brindisi a mio parere a uno dei più grandi attori viventi di questo secolo dal ligabue ma che del grillo e tante altre insomma non è che posso ricordarmene tutte e quindi ci sono alcune sono rimaste nel cuore ma non nel cuore in fondo anche perché mi hanno incenerato ho avuto tanti maestri straordinari eccetera e che ricordate questi maestri tipo elio pedri capuccione elio pedro capuccione elio mi ha incenerato tutto di questo mestiere per quanto riguarda cinema ovviamente è stato il mio maestro in assoluto poi appunto monicelli eccetera insomma noi abbiamo una grande abbiamo avuto abbiamo ancora adesso ovviamente una grande cultura in generale insomma lo vedo anche qui vengono chiese cose monumenti c'è storia dell'umanità in generale questo cresce l'uomo l'essere umano in generale uomo donna voglio dire che essere umano in generale quindi e questo è ovviamente bellissimo no ovviamente il mondo va avanti eccetera e speriamo che vanno avanti sempre nei migliori dei modi possibili tutto soprattutto per le nuove generazioni ovviamente il fatto del mio quotidiano eccetera però a parte che è un teatro bellissimo per cui ovviamente questo diciamo il messaggio se vogliamo chiamatelo come vi pare va alle nuove generazioni ai più giovani eccetera insomma il teatro è un grande gioco fanno i bambini no da scuola eccetera un fatto di lecce della comunicazione dell'essere umano in generale ed è un fatto bellissimo degli autori di cinema contemporanei chi comunque la incuriosisce di più è anche un meccanismo di fruizione del rito che ovviamente oggi nella majorità passa attraverso al di là della televisione abbiamo appunto i telefonini eccetera e quindi si consuma ovviamente una serie di messaggi insomma ecco e quindi la fruizione è molto più vasta adesso poi non sta a me giudicare se sia giusto o meno ho sbagliato eccetera insomma il rito dello stare insieme viene un po' a mancare insomma il teatro è un luogo anche di anche con la critica intendo dire no di conoscenza di rapporti umani tra l'essere umano io non riesco a vedere un film su un telefonino insomma no la comunicazione ovviamente cambia adesso non voglio dire che sia giusto o sbagliato intendiamoci questo dovete dire voi come nuova generazione intendiamo come in che modo va fruita e lo stare insieme insomma no perché voi di tutto questo sostanzialmente si parla neanche tanto banalmente se vogliamo no è la convivenza civile dell'essere umano e la comunicazione tra l'essere umano in qualunque modo avvenga eccetera no attraverso la parola la gestualità la sessualità l'occhio non so come dire no diciamo con i cinque sensi ovviamente no ho un po' la sensazione che siamo in un secolo in cui si tende ma anche inconsciamento ovviamente non voglio corporalizzare nessuno no è lì è un pochino tutto quello che la comunicazione no come posso dire banalmente se vogliamo per quantificare è il tutto è subito no 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 no